Gioiello incastonato tra le vie di Lecce, una costruzione medievale da riscoprire e far conoscere, e la chiesa medievale intitolata a San Nicola di Mira, luogo ricco di fascino e di mistero. Sono i locali della stessa parrocchia ad ospitare oggi l'incontro di studio, che alle 19 vedrà un alternarsi di dibattiti e confronti con docenti, esperti e tour operator. L'evento è organizzato dalle associazioni ASAL, l'associazione studenti albanesi a Lecce, della MAR e Albania Viaggi. L'obiettivo è quello di promuovere questo luogo ancora poco conosciuto, sia sotto l'aspetto culturale sia dal punto di vista turistico. La chiesa medievale è anche un simbolo della presenza della comunità albanese a Lecce, delle sue tradizioni, dei suoi riti e della sua cucina.